Io sono preoccupato in ordine a due fattori principalmente, il fattore sanitario perché un numero così grande di persone in un territorio così piccolo mette a repentaglio ed è una prima criticità, la seconda criticità che ultimamente ho visto teste rotte, persone accoltellate, autobulanze, carabinieri e polizia che possono arrivare in tempi lunghissimi, dunque non siamo nemmeno protetti da questo. Io dico che questo deve cambiare, si deve risolverlo immediatamente e il governo lo deve fare, assolutamente. I toni sono quelli esasperati di chi non ne può più di sentirsi ripetere da oltre un anno le stesse promesse. Il prefetto continua a parlare di nuovi bandi che alleggeriranno la base di Conetta quando agli ultimi non hanno risposto più nemmeno le cooperative, ricorda numeri alla mano il sindaco Alberto Panfilio. Io ho detto che mi sono stancato di sentire le stesse cose e mi auguro che qualcuno possa rispondere, ma prendo l'ultimo risultato che è stato fallimentare, su 1200 persone circa l'offerta è stata di 670, dunque dobbiamo renderci conto che nemmeno più le cooperative vogliono aderire al bando, dunque ci dicono qual è il piano B, altrimenti se non lo sanno che se ne vadano a casa che facciano affare ad altri. In 12 mesi non ho avuto la solidarietà di nessuna istituzione, si arrabbia al sindaco. Oggi finalmente la regione si è accorta di noi, anche se non ha oggettivamente gli strumenti per risolvere la situazione. Non ce l'ha, però più siamo a dire cose giuste, più mettiamo in evidenza le scelte sbagliate altrui.